buongiorno a tutti vi presento il mio paramotore x generation b3 con su sopra un tor polini 200 questo paramotore ha delle caratteristiche che voglio elencarvi la prima è la selletta molto comoda la più comoda sul mercato la più elegante anche e sicuramente comoda sia negli spallacci che nella seduta il telaio è facilmente smontabile non ha alcuna saldatura in caso di crash potete sostituire i pezzi con estrema facilità anche la rete si può sfilare e infilare in 30 secondi ha degli attacchi basculanti regolabili in ogni posizione a seconda del peso del pilota e della postura che vuole avere in volo della sensibilità sugli attacchi grazie al sistema multipoint parliamo anche del motore polini tor 200 è il top di categoria in quanto a delle caratteristiche che altri motori non hanno con scatole ingranaggi bagno d'olio con contro albero frizione e raffreddamento ad aria forzata tramite una ventola interna qui che favorisce delle temperature basse nel motore un altro particolare è il carburatore il 28 che è un carburatore a baschetta facilissimo da utilizzare in quanto le posizioni sono dettate da spilli e getti quindi non c'è il discorso di un terzo di giro un ottavo di giro e compagnia bella siccome si toglie uno spillo e si mette un altro oggetto viceversa la regolazione facilissima all'aria qui per la messa in moto in quanto a una forte compressione il motore silent block e ha una caratteristica un'altra caratteristica e bassissime vibrazioni e bassissimo effetto coppia e un'altra cosa che voglio elencare è il flash starter praticamente noi tirando questo cordino andiamo ad azionare una molla e questa molla scarica la forza e può muovere l'albero motore veramente un bel gioiello in questo in questa marmitta è già posizionata la predisposizione per i fumogeni il kit nirvana sepatoio da 10 litri ottimo e sufficiente per questo motore in quanto i consumi sono bassissimi i più bassi della categoria a una pompetta piccola per per far accedere la benzina sul carburatore una maniglia acceleratore ergonomica comoda con molla di rientro tasso di spegnimento e possibilità di alloggiamento di kit strumento motore tornando alla selletta possiamo vedere due tasche laterali e si può montare senza problemi anche la emergenza laterale inoltre ha la posizione di un ulteriore tasca grande sotto e il predellino avanti che serve per alzarlo si può alzare in volo per avere le ginocchia comodissime cosa dire questo è un paramotore tenuto in maniera maniacale in quanto io volo ma ci tengo anche alle mie attrezzature è possibile visionarlo in ogni momento provarlo anche si mette in moto la prima al primo start cosa dire contattatemi e è qui per voi ciao